Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Preciso subito, spero che non si sentirà troppo baccano, ma in regola no perché abbiamo la Genius accanto alla stampante FDM in funzione Quindi spero non si sentirà troppo baccano Oggi, ma l'avete già visto in un video precedente, vi presento la Sonic Mini 4K della Frozen Che tra l'altro ringrazio di cuore perché abbiamo iniziato la collaborazione appunto con la Frozen E questo è il primo modello che ci hanno mandato a casa, che è la Sonic Mini 4K La Sonic Mini dovrebbe essere uscita già da un annette qualcosa Questa è la sorella maggiore ed è bellissima perché la prima stampante, ovviamente Mini non si va a parlare di stampante con il piatto molto più largo Quindi niente di industriale e cose del genere, stampante da desktop, da tavolino Però LCD in risoluzione 4K e questa fa dei lavori disumani ma soprattutto è un 4x di velocità Però vi dico ora nel corso del video, ma prima sigla Allora partiamo subito un pochino col descrivervi la macchina Come vedete è piccolina, quindi come dimensione è la classica stampante LCD a resina che potete mettere ovunque Quindi sì, magari sarebbe un attimino meglio non metterla sulla scrivania accanto al computer o dove dormite Ma non per altro perché i fumidi della resina, che ora vi facciamo vedere, sono tossici Però appunto la potete mettere praticamente ovunque, basta che la zona sia abbastanza areata Ora, a differenza della, facendovi l'esempio più classico, ora vi facciamo vedere anche le stampe Della Anycubic Photon il piano di lavoro più o meno è lo stesso Alla fin fine si va in un centimetro, un centimetro e mezzo di larghezza In più invece di andare a 6 centimetri si va sui 7, 7,4, 7.5 L'altezza è leggermente più bassa, non si arriva a 15 ma si arriva a 13 Però a livello di lunghezza, quindi il piano di lunghezza qua sotto è anche lì di un centimetro, un centimetro e mezzo più largo Secondo me è meglio così, perché tanto se te mi fai un piano alto anche 20 centimetri, l'asse Z Però poi posso lavorare poco in larghezza, la posso allargare poco la miniatura A meno che non la streccio lunga e verrebbe veramente male, sembrerebbe di stampare uno Slenderman Quindi è inutile avere troppa artezza se non si ha troppa profondità E questa secondo me ha le dimensioni giuste Partendo dal piatto di lavoro questo qua su Ci sono pro e contro Come abbiamo avuto per la Lotmax Perché vedete che sopra c'è una manopola per stringere Questa qui in nera qua su in cima Per stringere ovviamente il piatto di lavoro E 4 vite alate, quindi 2 su un lato e 2 su un altro Questa cosa serve? Quando voi andate a calibrare la macchina, la dovete fare abbassare, non vi faccio un tutorial Tanto ce ne è 8 milioni su YouTube Tra l'altro l'abbiamo seguito anche noi Comunque levate la bacinella in fondo, mettete un foglio di carta Fate scendere il piatto di lavoro Ovviamente con le impostazioni della macchina lo fate scendere fino in fondo E quando va a toccare con il foglio di carta che ci avete messo sotto Andate a stringere le viti Ovviamente quella sopra E poi le 4 vite alati Perché il foglio sotto non si deve muovere Non è che deve fare un po' di gioco Sulla foto andava a fare un po' di gioco Qui no, deve essere fermo Proprio che se lo tirate si dovrebbe strappare Ovvio non l'andate a schiacciare troppo Per non rischiare di rovinare lo schermo LCD Però comunque non si deve muovere Non deve fare un po' di giochino, uscire piano piano Deve essere bloccato E è leggermente più difficile da calibrare Un'altra cosa però è una cavolata Un'altra cosa importante di una stampante per tutti Quando la prima volta andate a montare il piatto di lavoro Prendete un po' di sandpaper Quindi un po' di carta vetrata E andatelo un po' a scartavetrare A pulire Perché se fate la prima stampa Senza andare a ritoccare un po' l'adesione Vi si stacca la figura A noi è successo La prima stampa non l'ha fatta Ci siamo demoralizzati un pochino La seconda stampa Per staccarla serviva praticamente un trapano da manovali Perché non veniva via Non c'era versi E deve fare tanta tanta aderenza Poi quello che conta sono anche i settings dello slicer E anche quelli ne potete trovare due miliardi di guide Perché potete averla calibrata come vi pare Ma i setting dello slicer sono sbagliati E la figura non vi viene Soprattutto i supporti Il piattino come abbiamo visto anche sull'Elego Mars Ad esempio ha due viti alati Queste due vite qui le andate a togliere direttamente E il piatto lo alzate Lo tirate fuori Una cosa importante Occhio di mettere il giusto livello di resina Perché se no quando ci va il piatto dentro Per lavorare ve la butta fuori La resina non deve mai finire Fra la bacinella e il FEP sotto Perché rischiate di rompere completamente L'LCD E questa è una macchina 4K Ora parlando di esperimenti che abbiamo fatto Stiamo aspettando che ci arrivi la resina Proprio di loro della Frozen 4K Tra l'altro washable Che non è ancora arrivata Quindi una resina disumanamente spettacolare E questa macchina qui Ovviamente il massimo lo dà con la sua resina Resina 4K La cosa importante Soprattutto È che con la resina 4K Arrivate al massimo del dettaglio Al massimo della velocità Però vi possiamo dire Che già di per sé Usando una resina standard grade Della Elego Che è quella che usiamo sempre Ora vi facciamo vedere Due stampe che abbiamo fatto È 2x di velocità Già con una resina normale È stata al doppio Una volta e mezzo Due volte più veloce Rispetto a una Photon E i dettagli Non sono prettamente in 4K Comunque ha fatto un livello di dettaglio Molto maggiore Sempre con la stessa resina Ovviamente se volete sfruttarla 3x 4x di velocità Anche per un fatto di cottura Della resina E soprattutto volete raggiungere Il miglior dettaglio possibile Immaginabile Tanto vi lascio tutti i link In descrizione Ne dovete comprare Vi lascio anche quello La resina Per questa macchina Che è una resina appunto Della Frozen Per il 4K Ora ve le faccio vedere Un attimo da lontano Vi faccio vedere anche Un piccolo aneddoto divertente E poi vi facciamo vedere Una foto Questo qui L'ha fatto l'Anycubic Photon Tanto non vi preoccupate Ora ve ne parlo E poi vi faccio vedere Delle immagini fatte bene Questo l'ha fatto l'Anycubic Photon Che è praticamente Un busto bellissimo Preso da Thingiverse Del migliore eroe della Marvel Che è Deadpool E questo è quello Che ha fatto invece La Frozen Sonic Mini Ora l'aneddoto carino Che quando siamo andati A stamparli Abbiamo stampato Questo Sulla Sulla Photon E questo Sulla Frozen La cosa bellina Che c'è sulla Mini 4K La cosa che ci ha fatto ridere Che questo ha richiesto Tipo 7 ore Normale Un tempo normale Per fare i dettagli alti A layer basso E tutto quanto Quindi senza andare Troppo di fretta e furia Perché la Resina Non se lo merita Per avere dettaglio Lo stampiamo Lo stampiamo E ci mette 7 ore Va bene Vediamo se veramente Quest'altra qui La Frozen Sonic Mini È una 4K Stampa Bibibibibibibib 7 ore Meno male doveva essere 4x 3x 4x Ragazzi guardate quanto l'ha fatto E ve lo faccio rivedere A breve in una foto Questo praticamente È quello della Photon E questo dietro Che è una volta e mezzo Barra 2 Perché praticamente È quasi il doppio Questo l'ha fatto La Sonic Mini Quindi alla fin fine Ha fatto una figura Una volta e mezzo Due volte più grande Nello stesso tempo 7 ore questo 7 ore questo Per una cosa del genere La Photon Ci avrebbe messo Sicuramente Almeno 10 11 12 ore E invece ce l'ha fatto Nello stesso tempo Quindi effettivamente Come macchina È più veloce Però Ve l'ho detto Siamo sulla linea Del 2x Di velocità Se volete arrivare A un 4x Per forza di cose Dovete usare La sua resina 4k A quel punto Ragazzi vola Io penso che lo fa Il doppio di questo Nello stesso tempo Nel caso Trovaste dei problemi Perché i problemi Vengano anche con una cosa Che devi pigiare un pulsante E ti stampano a casa Il libretto Guardate lo che c'è Dentro la confezione Perché è fatto Benissimo Tra l'altro Una sezione FAQ Con tutti i problemi Più noti Praticamente Già vi spiega tutto Noi siamo andati a gira A vedere video A vedere siti Nel libretto c'era scritto tutto Quindi dobbiamo imparare Un attimino a leggerli Un pochino meglio E nella parte finale Del libretto Sulla parte destra Ci sono dei QR code Da scannerizzare QR code Che vi rimandano direttamente O al loro canale YouTube O direttamente Alla loro pagina Facebook Frozen 3D Group Tanto la trovate comunque Nel libretto Ma comunque un po' di link Ve li lasciamo in descrizione Dove c'è direttamente Lo staff E il gruppo ufficiale E infatti noi abbiamo avuto Un problema Piccolino all'inizio Anche Ma non era un problema di macchina Era un problema nostro Ignorantemente Di slicer Ci hanno risposto Ci ha risposto Uno dello staff Della Frozen Ci ha dato la soluzione Al problema Il problema risorto Deadpool stampato Quindi Come vi faccio rivedere Questo è in settore Con la Photon Questo è in settore Con la Sonic Mini 4K Nello stesso tempo Il dettaglio è un po' più alto E occhio Non è altissimo Non è 4K Questo qui assolutamente Però il dettaglio È un pochino più alto E l'ha fatto Una volta e mezzo Barra 2 Al doppio della velocità Il prossimo video Vi si fa vedere anche la Genius È i lavori che ha fatto Ci sono delle cose Ma ha fatto un regalo A mia moglie Disumano Sto bonus Ancora le setole Del maiale Comunque È una macchina Che veramente Merita da morire Ed è una macchina Io penso Una delle prime Piccolina così Quindi non si va Già di base Guardate voi Ve li faremo rivedere Ovviamente anche dipinti Qui Quando lavorate con la resina Prima o poi Finirete per Con i guanti Quando toccate la resina Fare Ditate E alla fin fine Qui si sporcherà tutto E dovrete stare fisso A lavarle Tutto quanto Però vabbè Basta un attimino D'attenzione Magari basta Prima di andarlo A toccare A togliere A levarsi i guanti Insomma Il processo si trova Basta avere un attimino D'attenzione Passate appena i voti Ragazzi Veramente uno spettacolo Assurdo E vi faremo vedere Tante altre stampe Che faremo con la Sonic Mini Link in descrizione Ciao ragazzi Alla prossima